Questa è la città di Venezia dove dal 30 agosto al 9 settembre si svolgerà la 74 edizione della mostra cinematografica del film di Venezia. Questo è il leone d'oro che vincerà il miglior film presente in concorso, ma ci saranno anche altri premi sempre a forma di leone alato. E questa sono io che quest'anno sarò a Venezia come accreditata a seguire l'intero evento e quindi se volete essere informati su cosa succederà a Venezia e quali saranno i migliori film da recuperare poi nell'autunno non vi resta che seguirmi. Per i report più famigordistici invece il vostro apprado sicuro rimane sempre gerundiopresente.wordpress.com Nella descrizione come al solito trovate tutti i link ai social, su Instagram metterò le foto degli attori, dei registi che paparazzero, su Twitter le recensioni a caldo all'uscita dalla sala e su Facebook, boh non lo so, ho ancora una volta il leone alato che siccome non so disegnare ricorda paurosamente Kero Chan. E questo è quanto, buona Venezia a tutti e soprattutto a me ci ritroviamo presto qui su Gerundio Presente un blog e un canale di considerazioni in ando e nendo. Grazie a tutti.